Ecco la preparazione, altro cambio di costume. Antonio mettitelo dritto il bavaglino. Che non faccia le pieghe. Aspetta, 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 ti aiuto. Controllatevi tutti, controllatevi tutti. Ho messo, scusa. Sanni, dai un colpo con la radio che controllino come sono i bavaglini dall'altra parte. Ogni tanto ce l'ha qualcuno storto, capito? Divi che ne è rimasto uno. Questo uno che ha avanzato lo mettiamo alla tina, signori. Grazie. Con la tina e col bavaglino. In più. Voglio il biberon. Precisa, in più. In più.